La partita è difficile, giochiamo con una squadra che viene da 4 vittorie su 5, è una squadra che in casa si esprime al meglio, soprattutto approfitta del fattore campo, del sintetico, quindi ci aspetta una partita non facile. In casa hanno un atteggiamento molto aggressivo, un atteggiamento propositivo e da me mi aspetto una partita di carattere e di personalità, perché in un campo del genere ci vuole carattere e personalità. È un Bari che ha fatto bene sul piano dei risultati, decido poi domani, quindi qualche dubbio sia a centro campo o in attacco. La forestiera ha fatto bene, ha fatto gol, il partito, ve l'ho già detto, era partito male, poi dopo il gol ha fatto bene. Ma io da forestieri, come da quelli di qualità, mi aspetto la continuità, che è il problema. Il problema è che questi giocatori di qualità non stanno dando la continuità nel gioco e nelle prestazioni. La Juve è stata abituata, sul sintetico la palla scorre molto più veloce, il rimbalzo, ma soprattutto il scorrimento della palla è completamente diverso dall'erba. Loro giocano e si allenano lì, sicuramente è un vantaggio. Era successo già un anno fa al Novara, al di là delle potenzialità del Novara, sicuramente è stato un vantaggio. Sono contento per i risultati, per le prestazioni, soprattutto nella fase difensiva. Ma non sono contento nella manovra, vorrei più movimento, vorrei meno tocchi. Stiamo però lavorando per migliorare, per essere più belli e concreti.